Quante possibilità ci sono di incontrare un positivo al covid ad un evento? Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e come ogni giorno in questo podcast parliamo di tematiche che ci sono utili per il nostro lavoro di imprenditore e di professionisti e anche utili rispetto a questo momento. Come sapete in questi giorni fino a domenica sera sarò a Luca Comics and Games 2020 che quest'anno nella cornice totalmente digitale si chiama Luca Changes e presenterò diversi interventi, diversi eventi con ospiti da tutto il mondo e stavo ragionando appunto poco prima di partire a quante possibilità ci sono di incontrare un positivo al covid. Ok metto la mascherina, mi tengo a distanza eccetera eccetera ma chiaramente rispetto a che stare in studio, rispetto a che stare a casa le possibilità chiaramente sono di più. A rispondere alla mia domanda ci hanno pensato i ragazzi della fondazione EASY di Torino, la Georgia Tech e la Northeastern University nell'ambito di un progetto che si chiama COVID-19 Event Risk Assessment Planning Tool ovvero una piattaforma semplice, veloce e accessibile ovunque perché è un sito internet per consapevolizzare chiunque organizza o gestisce eventi di qualsiasi numero tra l'altro. Il sito è covid19 eventi.datainterfaces.org, ve lo metto chiaramente come sempre sul gruppo Telegram e anche chiaramente nelle note di questo podcast. è interessante perché ci permette di scegliere per esempio la regione, la città, magari la zona e andare a vedere quant'è la percentuale, la probabilità che è presente almeno un infetto in un gruppo di 100 persone. Quindi possiamo anche cambiare la dimensione dell'evento, mettere 500 persone, 100 persone, 10 persone, periodo di infettività e percentuale di infezioni rilevate e noi scopriamo matematicamente grazie ai dati di oggi qual è fondamente la possibilità, la probabilità di incontrare chiaramente un infetto. Poi se abbiamo una mascherina, poi se entrambi abbiamo una mascherina siamo distanziati, chiaramente non ci sono, non ci dovrebbero essere grandi problemi però chiaramente è molto interessante. Per esempio sono andato a vedere la mia provincia, la provincia di Milano, per un evento diciamo piccolo, 25 persone, un ritrovo, il rischio ad oggi è del 4,4%, ma basta fondamentalmente che un raduno sia un po' più ampio per alzare il rischio, chiaramente perché magari un evento più grande c'è la possibilità, chiaramente la probabilità aumenta. Insomma interessante anche capire questo, per fare dei ragionamenti di possibilità, potenzialità, partecipare ad un evento, organizzarlo, ora, senso o no? Perché chiaramente più andremo avanti più i positivi aumenteranno, probabilmente tutti faremmo il Covid, ma bisogna capire anche quando farlo, chiaramente. Insomma interessante questo ragionamento, andatevelo a vedere, per noi imprenditori c'è tanto da imparare da questi progetti che mettono insieme i dati e ci danno un'interfaccia immediata per poter capire che cosa succede là fuori. Dobbiamo continuare a dotarci di numeri, a ragionare, a parlare, a capire quello che succede là fuori e in qualche maniera, insomma, tenere con le unghie e con i denti la situazione fino ad oggi, fino, credo, purtroppo a questa primavera. E con questo concludiamo anche il caffettino di oggi, continua, continua la settimana nostra sul canale Telegram, Mario Moroni Canale, anche sabato e domenica un vocalone e continuiamo a parlare di queste tematiche. Invece sul podcast ci sentiamo lunedì mattina, come sempre. Fate i bravi, mangiate le verdure, buon weekend.